bello a tutti ragazzi bentornati sempre qui insieme stiamo giocando al resident evil 0 abbiamo risolvato i fallimenti dell'ultima volta abbiamo risolto il lema ora vi spieghiamo se mentre giochi come vai spiega in pratica come vi dicevo l'altra volta l'ultima del gioco questo gioco è sicuramente stronzo perché un gioco vecchio togli il cursore per piacere sennò impazzisco è un gioco vecchio quindi un gioco stronzo e non ti dà nessun indizio su quello che devi fare ma conta sul fatto che tu ti impegni a cercare le cose finché non le trovi quindi non ti dà indizio non ti dà scorciatoie cioè devi proprio sbatterci la testa ora i giochi di questo genere sono fatti per non bloccarti in un punto se fai una cosa piuttosto che un'altra in questo caso specifico si muoge un personaggio piuttosto che un altro quindi una soluzione ci deve essere sempre come dicevo l'altra volta è che il problema è che a volte può essere difficile trovare ora se voi si arrivate con lei al piano di sopra la vita vi sorrideva perché pillevate le due bombole tirate fuori la roba la mixavate e avevate la soluzione spiega perché magari si sono dimenticati in pratica dovevate riuscire a fare qualcosa che non si sapeva cosa fosse e questo qualcosa era estrarre la pozione da due bombole di gas insomma di fluido di quel cazzo che è quando avevate la pozione poi potevate fare quello che sapeva fare il solvente cioè quello che potevate sciogliere col solvente la chiusura della bombola e poi ottenevate il coso blu da mettere qui giusto esatto e vi fa aprire la porta e avevamo capito subito che era blu e che doveva essere usato qua il problema cos'è che al piano di sopra ci sono la bombola verde e la bombola rossa mentre al piano di sotto c'è la porta blu quindi dovevate fare interagire due personaggi se andavate su con la tipa non c'era problema come dicevo la vita di sorrideva c'è tutto subito se invece siete stronzi come noi andavate su col tipo e quindi non potevate fare un cazzo perché lui non può distillare le cose ma deve farlo lei per forza e sotto dove è bloccata lei all'inizio c'è solo la bombola rossa solo che come dicevo questo gioco è stronzo quindi cosa dovevate fare dovevate tornare a girare per la casa dove eravate quando viene fuori il mostro a un certo punto prendete un tasso viene fuori un mostro che dovete uccidere che vi libera la mappa della vecchia casa praticamente dove potete entrare e lì trovavate una bombola verde quella rossa c'eravate vicino a quella verde invece la trovate lì dove sta segnando fra dovevate girare finché non la trovavate penso che si chiami l'infermeria comunque ritornate lì dovete tornare lì distillarla e il mondo vi sorrideva di nuovo ovviamente se smettete di giocarci non riprendete un millennio c'è da non avete alcun modo per ricordarvi tutto questo ma anche in realtà nella dinamica del gioco normale potreste benissimo non ricordarvi che c'era una bombola lì in mezzo però come dicevo l'idea di questo gioco è proprio di farvi girare cercare fare finché non riuscite a risolvere l'enigma perché da qualche parte la soluzione c'è è solo questione di capire dove senza indizi senza un cazzo di niente c'è scritto qualcosa sul retro della frugheria togli di nuovo il cursore ma a james con ricorda del cervello del 1939 non male tra l'altro laureati del 39 a pioggia proprio si poi un'annata splendida abbiamo vestito lei da cheerleader beh insieme a me sembra che le donne questi cazzi allora qui c'è una porta però io direi di andare anche là in fondo a vedere in crib adesso non potrei portarlo e anche in realtà questa dinamica del fatto che questo gioco ha i pochi spazi per portare gli oggetti vediamo ma veramente pochi e non hai il cassone come gli altri esentivoli ma perché è tutto strutturale a quello che dicevo prima cioè questo gioco ti punta a costringerti a girare negli stessi ambienti a farti tornare indietro farti tornare avanti farti fare una cifra di tempo sostanzialmente allora il motivo che avevano detto un tempo sviluppare ambienti di gioco così richiedeva se non lo fanno vede uno per fare adorare il più possibile gioco e due per sfruttare al massimo tutto quello che hanno fatto e dovete considerare che ai tempi di questi giochi qua cioè voi non avevate un miliardo di giochi non avevate le guide non avete un cazzo quindi era previsto che voi mettevate il vostro cd nella console iniziate a giocare e ci sbattevate la testa finché non riuscite a risolverlo una volta è difficile da capire se non avete provato almeno un'esperienza precedente ma una volta dei giochi erano fatti cioè come giochi c'era una cosa difficile che dovevi acquisire delle skill particolari o entrai nelle dinamiche in modo preciso cioè dovevi porci molto più attenzione era molto più difficile finire un gioco mentre oggi sono fatti molto di più per essere dei filmatoni in cui tu passi attraverso molto più delicatamente anche i giochi difficili che ci sono però sono sono pochi e due sono comunque più facili per qualche motivo rispetto a questo sì diciamo che veramente se ci pensate io a me viene sempre mettere l'esempio di tomb rider perché avevo veramente pianto su quel gioco ma dei livelli da ci sono impazzito più e più volte sopra chissà perché qualcosa mi dice che quel vetro si spaccherà comunque per dirvi se c'è anche solo ora sentivo il 4 che l'abbiamo appena finito sul canale per questo cito è molto più facile di questo come dinamica di gioco cioè è molto più lineare quasi un po più action sì sì ma è anche più lineare a livello proprio di enigmi di cose da fare eccetera mentre questo qua delle cose comunque più complicati più difficili cioè è meno come dire non intuitive però proprio lineari cioè andare da a b da b a c eccetera c'è devi generare di più per risolverti gli enigmi e non è così scontato che tu lo capisca cioè ci devi sbattere la testa per un po' a volte pensiamoci un attimo nel senso quali sono i resident evil che effettivamente avevano queste dinamiche di gioco è i primi tre in verità di più i due il resident evil 1 2 forse il 3 code veronica va bene origi questo qua scusa 0 e code veronica 1 e 2 perché c'è la 1 e la 2 tutti quelli fatti così però soprattutto c'è la fine ha già il 3 secondo me un po' di meno rispetto all'1 e il 2 perché ha già un filo più action per certi versi si perché avevano introdotto la figura del nemesis che tra l'altro che ti costrugeva di più by the way anche il resident evil 2 si c'è il mostro quando voi partivate a fare il secondo scenario io non so chi di voi voi lo finivate prima con uno o una e poi con il relativo con l'altro tra l'altro avevano studiato bene gli avvenimenti perché passavate da dei cioè più o meno le stesse ambientazioni ma fatte in maniera diversa quindi una volta passavate ti ricordi da una parte invece che dall'altra la polizia dall'altro ti faceva vedere il gioco da due angolazioni diverse e una cosa che veramente era innovativa se vogliamo era che la seconda volta che lo facevate avevate un tyrant che vi inseguiva tyrant che viene schiaffeggiato dal nemesis poi successivamente tu lo ricordi? si si instant killer che poi infatti ti faceva capire quanto era forte il nemesis perché tu sapevi quanto ti aveva fatto penare il tyrant sento passi usa la pistola qui sono prendi la pistola spero si si sono prendi la pistola si anche quello è vivo comunque si li animeranno vi preoccupate no è matematico lo vedi che sono animati rispetto cioè per questi e vai aspetta non hai capito che si passi lontano si attiverà dopo la gente sterilizzata non mi ricordo più che cazzo serviva francamente perfetto tu posso ricordartelo un grande passo avanti si ma dov'è che poi ah ha capito dove lo utilizziamo diterlo a lei col gas ah si giusto nella E perché c'è una stanza dove c'è una macchina col gas tossico si 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 che è qua grazie a Dio è qua di fianco e e comunque insomma ma io perché tra l'altro io non so se vi ricordavate ma il tyrant era veramente un legno incredibile si beh considerate che poi era il vero boss no che poi quando parliamo dei giochi vecchi dovete sempre considerare che nei vecchi recenti vol è un po' anche in questo ma questo già è migliorato cioè i movimenti le animazioni lo sparare era una roba lignosa dura difficile cioè era una difficoltà ulteriore del gioco perché appunto tu dovevi anche riuscire a fare le cose eccetera poi dovevi sparare i nemici non è affatto detto che tu riuscissi a uccidere in un modo umano ma per colpa dei dinamici di gioco io mi ricordo che tu quanti proiettili sprecavi per un cazzo a volte si solo perché non riuscivi a aprire la mira e i proiettili tipo nel primo recenti volo se giocavi con Chris invece che con lei dovevi bestemmiare a nastro per averne un numero decente si è vero ma infatti io avevo mi sembra giocato prima con lei e poi con lui se non sei pazzo giochi con lui che tra l'altro la seconda quante volte dovevi finirlo per avere proiettili infiniti mi ricordo non è scogliato c'è anche qualche sento altre urla saranno all'esterno si si no è quello che si è alzato prima che ti dicevo si si ve da qualche parte si è alzato così e poi comunque era molto più bello questo è uuuu si no come ad esempio nel primo recenti volo cioè tu vivevi cioè ogni nemico che ti arrivava a portata la vivevi con un incubo perché poteva cioè non dico ucciderti ma rovinarti la partita di sicuro perché se inizierai a sprecare proiettili poi era un delirio allora chiave della stanza dallevamento devi prendere no sto pensando dove era ok ci sarà una porta chiusa da qualche parte tutto che tu mi hai cappato il numero di proiettili meraviglioso è meraviglioso intanto qui non sono spariti delle granate figlio di puttana sto cercando di capire dove cazzo è quella stanza no è prima forse avanti a noi questa no questa bella porta a chiudere questa direi ok ma poi non suona bene come mi metto non sento rumori strani però ci sono delle gabbie rotte io che che ti ho sempre detto vabbè che qui il cane è sostituito dal gorilla ma scusa che ti ho sempre detto qual era qual era il nemico che odiavo di più in Resident Evil i cani beh penso tutti tra l'altro ecco perché il discurso che ho fatto prima del fatto di sprecare i proiettili che i cani era massimizzato perché uno mica c'è qualcosa di più grosso dei cani master ho capito cos'è un hunter no non è un hunter sono quei goleglioni no no è un hunter questo è un hunter questo è un hunter spero sia morto aspetta che però ne arriva un altro dicevo il discorso che abbiamo fatto prima è vivo spara spara ehi qui faccio la persona che finiti colchi master mi ascolti grazie è morto quello è morto però preparati niente non preparati fermi dicevo il discorso che abbiamo fatto prima dei nemici il cane ha massimizzato c'è un foglio lì perché sono erano più veloci più difficili da colpire era un delirio poi vabbè la prima scena di quando arrivano i cani è leggendaria il primo residente quindi se non sapete qual è ragazzi non so cosa dire nel 2017 cazzo perché non me lo ah ok può trante questo di darlo a lei perfetto ok rapporto arma biologica da lì c'è un virus progenitore viene somminizzato agli organismi venti si verificano violenti mutazioni che causano un collasso del sistema inoltre non si è attorato alcun metodo efficiente in grado di controllare gli organismi e utilizzare vabbè come armi vai appare evidente che una maggiore coordinazione a livello cellulare è essenziale così un'ulteriore crescita il prodotto ha sfruttato uno degli esperimenti a fine scuola di progressi ecco i risultati vai insetti molto bene forse a causa del sistema geneticamente stabile da millenni di questi antichissimi esemplari la somminizzazione del virus progenitore ha scatenato una crescita violentissima ne aveva forza un notevole aumento di regressità la pericolazione difficile con l'impiego come armi biologiche beh insomma anfibi l'iniezione del virus di una rana ha provocato un aumento della potenza necessarata e una crescita abnorme della lingua tuttavia non è stato rinnovato alcun cambiamento delle capacità mentali la cavia ha fallizzato un appetito anormale che ha solito ad attaccare qualsiasi oggetto di movimento l'utilità come armi biologica è limitata vai mammiferi il virus progenitore è stato combinato con il lineare di una scimmia provocando un aumento della fertilità gli esemplari derivati hanno mostrato una crescita di aggressività e un miglioramento delle capacità mentali con effetti collaterali i soggetti hanno perso le capacità antisive anche se l'incommento è stato controbilanciato un miglioramento delle capacità auditive tuttavia il loro aumento dell'uso bellico appare inefficace è evidente che qualsiasi progressi improbabili se si ricordano all'uomo come organismo base scusami sti cazzo di lucertolini dove arrivano cioè sono uomini bocca al lupo comunque ci hanno ociulato delle granate una vita amara anche la scena della prima volta che si veniva gli hunter e le sentivo l'uomo è leggendaria se non la conoscete non so cosa dire beh come i come quelli che ti staccavano la testa nel 2 che non so pronunciare quelli erano vediamo se io ero sicuro di averle droppate in giro vediamo le abbiamo lasciate da qualche parte le granate non so scusa mi serve un attimo dove si fa invio in coggetti c'è il tasto per dire ah giusto scusami invio in questo caso si e molotov sono lì quindi l'ho lasciata da qualche altra parte e vabbè ok comunque devo dire si ti ricordi quella volta che nel 2 entravi e vedevi quello con la lingua pronto a slinguazzarti duro si il problema è la combinazione tu te la ricordi ci penso era una cagata in realtà era quella vediamo se quella rossa e blu era il doppio 4 8 2 1 te la ricordi ancora come cazzo fai Giulio culo in questo caso no figa sei il mio fenomeno a proposito mi viene di 20 euro si ma le lascio sempre sempre di corso sti giorni le lascio sempre sulla scelta sulla scrivania per me che me li dimetti ti perseguiterò ma io voglio riportarti giù è nel mio elenco di cose da fare insieme a dai un abbraccio a fra ok ho mangiato sushi stasera tu cosa hai mangiato mi ero mangiato pesce anch'io c'è chi piace pesce noi siamo lì siamo proprio tra quelle persone lì ok quindi si inserisci pack intanto cos'è l'altra roba la bobina sbobinata di oculto cos'è wow quindi prova si vai 4 a 8 ma vado a destra o a sinistra scusa ora che ci penso sia uguale comunque vai sull'8 comunque anche questa cosa per dirvi c'è i numeri di prima si erano evidenziati ma 2 no era 2-1 ah cioè prima c'era la combina c'era quella che io presumo sia la combinazione quindi 4-8-3-1 4-2-1 quella che io presumo sia la combinazione perché è l'unica combinazione di numeri che abbiamo trovato evidenziata in giro se no se non era evidenziata non c'è ecco appunto se non era evidenziata non c'è alcun motivo e bisogna capire dov'è da qualche parte di averla scritta vi diamo appuntamento al prossimo video perché siamo già sui 17 minuti noi intanto andiamo a rileggere tutto guardare le soluzioni bello poter parare bello poter parare bello poter parare